Mi chiamo Mariglia, sono nata via Roma e Muncher e sono abitata sempre qua. Più giù c'era un albergo e una cantina e la padrona si chiamava Sarosina Rinaldi e ogni volta che gli uomini giocavano o qualcuno andava a comprare il vino, quando ne toglieva di vino Sarosina ne mettia due o tre acque in più. E poi è venuta la combinazione che quando è morta, proprio il giorno dei funerali, il momento che si doveva andare a portare in chiesa la Salma, è venuto un temporale talmente forte che non si è potuto andare in chiesa. e il tavuto l'hanno potuto mettere sopra un motocarro per portare in chiesa e tutta la gente diceva che questa è l'acqua che Sarosina ha messo in due uomini per tanti anni. è venuta l'acqua. è venuta l'acqua. è venuta l'acqua. è venuta l'acqua. Grazie a tutti.